No sta facendo una donazione, Young Moner sta facendo una donazione nella gente grande di Villa Antonia e sta facendo una donazione con Young Moner per base a tutti i anni. Noi abbiamo due anni che abbiamo scoperto la corona, quindi noi abbiamo deciso di seguirci con noi. Tutto che noi sta facendo una donazione di Gio è una donazione di decorazione di young Moner. Joven di young Moner, decorazione tra qui, per aspettare che non è tra l'anno, non è successo. No sta facendo un tema nuovo, è un tema di Young Moner, che è una donazione di Winter Wonderland, quindi noi abbiamo scoperto la decorazione di un tema di Winter. Noi abbiamo scoperto in Bonero, ma noi abbiamo scoperto la decorazione di Gio come se fosse a Winter. Per esempio, noi abbiamo cortina di sneu, di bala di sneu, noi abbiamo scoperto la pinta di palla, come si è una donazione di una buona riba, abbiamo scoperto di Snowflake, abbiamo scoperto di palla, come se fosse di frost, con di spi e di diversi costi. Voi abbiamo il honore di entregarvi la gente grande e le comments in questo mondo. Ci sono una donazione di che è un bello, è un bello, è molto bello, è un bello pertenevo, è molto bello, è un bello, in questo mondo, e in questa situazione di Villa Antonia è un bello, in questo mondo, è una pausa di me, l'abbiamo scoperto di Gio. Grazie a tutti come si è un po' di tratta arte? è un po' di più che è un po' di più è un po' di più, è un po' di più contento come mi ti guarda che la arte è grande se messe qui è una cosa più grande e sono più più grande è un po' di più molto molto più contento con più o meno che ci interessano più interessanti, più interessanti per accepterci lo che non conosco per altri casi